Cari amici del canale, in molti di voi mi stanno chiedendo e visto che oramai siamo diventati 104.000 mi stanno chiedendo dei webinar che cosa sono e quindi ho deciso di fare questo video breve proprio di lunedì, una giornata tranquilla, per chiarire questo aspetto, per darvi informazioni in modo che possiate già sapere di cosa si tratta nel caso che siate interessati. Ebbene io, lo sapete, ho chiuso le aziende, ho aperto questa partita IVA, faccio lo youtuber e faccio i test, faccio i video e faccio i webinar, cioè i corsi fotovoltaici. Bene, cosa sono? Intanto vi dico che avevo due tipologie di webinar, si è aggiunta la terza. La prima è la classica, cioè webinar in due, cioè un corso fotovoltaico dove analizzo insieme a voi quello che volete fare. Dico questo, ci sono già i video, i video sono già chiari, lo sapete che non ho metto nulla nei video. Vedete tutto, dettagli per dettagli, compreso la lucidatura delle vitine. Ebbene già dai video potete realizzare il vostro impianto. Se invece avete tante altre domande perché non siete del settore, quindi volete rispondere alle domande che vi creano un po' di ansia, un po' di difficoltà, oppure volete essere seguiti perché ci sono tante situazioni dove c'è bisogno di un consiglio, di un'opinione e quant'altro, allora potete contattarmi per il webinar privato. Il webinar privato sono due ore dove stiamo insieme, dove analizziamo il vostro impianto. Non è un progetto, non vi do gli schemi perché ci vorrebbe se no una settimana, ma è l'analisi del vostro impianto in tutti i suoi dettagli. Quindi è una cosa molto importante, soprattutto per coloro che non sono gli addetti ai lavori. Questo è il webinar privato, poi c'è il webinar collettivo, cioè tutti insieme, ogni tanto, non spesso, ma in maniera a secondo delle richieste anche, organizzo il webinar collettivo, ovvero siamo tutti insieme tra 15, 20, 30 di solito su Zoom o altre piattaforme e facciamo una videoconferenza dove io rispondo alle domande. Ebbene nel webinar collettivo c'è una cosa molto positiva che alla domanda di uno è una risposta anche per un altro, quindi tutti ascoltate anche le domande degli altri. Spesso nel webinar collettivo la risposta è, ah questa non la sapevo e neanche avrei potuto formulare la domanda. Quindi è anche importante questo webinar collettivo che dà senso proprio all'unità di questo canale. Il terzo è il webinar tutti insieme al ristorante. Questo lo considero una festa ed è l'unico webinar che faccio gratuitamente perché siamo insieme ore e ore e ore e rispondo a domande e mangiamo, beviamo, ci divertiamo come vecchi amici. Ebbene l'ultimo che ho fatto in provincia di Cuno, l'avete visto presso il ristorante Saloon, è stato un successone ragazzi. Io proprio su questo terzo webinar voglio farvi vedere alcune immagini che, e poi le spiego anche, che vi fanno capire che cos'è un webinar con Gianni. Non è un corso di cui non capite niente, deve essere un corso dove alla fine, come tutti quelli che hanno fatto webinar, anzi vi pregherei di scrivere messaggi qua sotto al video adesso di conferma, ebbene dal webinar si esce con la risposta a tutte le domande. Poi non sono tassativo, se due ore diventano due ore e cinque, due ore e dieci, non è che c'è il timer. E quindi è un momento in cui ci tengo che capiate bene di cosa si tratta. Ebbene l'ultimo webinar, tutti al ristorante, insieme a Gianni, quanto è durato? Io avevo detto se venite ci troviamo intorno alle 10, dopodiché alle 4, 5, 6, finiamo perché ovviamente poi il ristorante deve lasciare la sala per la serata, per i clienti. Ebbene il ristorante molto gentilmente, e ringrazio ancora i titolari, ha spostato tutti noi, quelli che sono riusciti a resistere, perché poi c'è chi aveva la moglie, i figli doveva andare a lavorare, eccetera. Quindi quelli che sono rimasti, bene, si sono protratti in una saletta, sempre all'interno del ristorante, fino a orari inoltrati. Bene ragazzi, questo è quello che accade, io non sono avido, quando facciamo un webinar è giusto che ricevo i miei soldi, ma poi se c'è da dare, come sto facendo su tutti i miei video, lo vedete benissimo, ebbene io sono fatto così. Adesso vediamo qualche immagine di questo webinar, partiamo subito con le prime, vediamo poi le vostre sensazioni, ovviamente scrivetemi tutto sotto questo video nei commenti, che sarà ovviamente mio piacere andare a leggerlo. Buona visione ragazzi. Ragazzi, mi trovo in provincia di Cuno, nel ristorante che accoglierà l'evento di domani, il webinar collettivo, tutti insieme al ristorante. Ebbene ragazzi, le sorprese sono tante, oggi sono da solo, qui tutto apparecchiato, voi fratelli, tra 4 secondi, il tempo di iscrivervi al canale, vedrete all'istante la sintesi di cosa accadrà domani. Buona visione a tutti. Ragazzi, allora intervistiamo qualcuno dei partecipanti a questo webinar, ad esempio Luigi. Allora, come ti sembra questo webinar, visto che stai mangiando ed è visibile che ti stai trovando bene? E' un'ottima tartare, viso. Tartare piaciuta? E' andata, molto buona. E prima siamo andati anche di prosciutti, formaggi, eccetera. Sì, prosciutti, formaggi, varie, 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 pizzette. Era? Era un buffet ricco, molto. Grazie ragazzi. No, veramente... Nella giornata, tutta tra appassionati, chiaramente. Anche futuri appassionati di... Sei trovato bene, il webinar ti sta piacendo? Esatto, sì, mi piace molto, è la prima volta che vengo. Ho sempre pensato... Avrai due estetti, comunque. Come? Avrai due estetti, perché mi scriverò anch'io, anche se è la prima volta che ti vedo e ti sento parlare. Ragazzi. Perciò mi ha fatto molto piacere, perché sei una persona molto, molto per me. Bene, bene, bene. Ragazzi, grazie veramente. Ci sono le tavolate che... Gianni è uno dei più affidabili, devo dire, su YouTube. Uno dei? Affidabili. Ah, grazie. Dei più affidabili. Ci sono ancora fatto l'impianto, ma una volta è come... Sei in cultura adesso, stai imparando. Sto imparando, c'ho qualche pannello che ho iniziato con 50 Watt, 100 Watt. Ah, progressionamente, bravo. 100 Watt, ma con una batteria da 100 Watt da partire. Adesso mi sono notte, devo fare le cose che mi sono. Adesso fai le cose in grande, ottimo. Ragazzi. con anche un po' di questo locale ci stiamo mangiando con le vattenze incredibili, quindi webinar scuola, cultura su fotovoltaico, sull'energia alternativa e non solo fotovoltaico ma anche pulinaria, quindi tutte queste pietanze locali e il saloon di Tarantasca, ragazzi venite ragazzi, giornatone ebbene ringrazio i titolari del ristorante Saloon di Tarantasca che ci hanno trattato veramente in una maniera incredibile avete visto in questa prima scena una forma di grana dove il cuoco grande, grande grande Alfio che grattava il formaggio cioè ragazzi veramente abbiamo mangiato molto bene, non ci è mancato nulla e questo è anche un video ricordo per tutti quelli che erano presenti, intanto che vi spiego che cosa succede, se è giusto anche fare ogni tanto qualche video così che esci un po' dalle informazioni puramente tecniche per far capire quello che avviene su questo canale ma andiamo avanti con altre immagini grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Molti di voi lo sapevano, durante le feste mi cimento anche nel canto, che è una cosa che mi piace tantissimo, perché sono anche un cantante jazz per passione. Ebbene, ci siamo divertiti con della buona musica, c'era tanta educazione, tanto rispetto e tantissime domande ragazzi, tantissime domande veramente. E ringrazio tutti veramente di aver partecipato a questo webinar, che è stato il primo di questa tipologia qua. Ma ragazzi vi dico una cosa, l'ho detto anche nel video che presentava questo webinar, ogni tanto girerò gratuitamente, perché lo sapete che lì non ho preso nulla, come si dice in gergo. Ma è stato un piacere, quindi avendolo fatto a Cuneo, dico ovviamente a tutti gli amici del canale che il prossimo sarà nel sud Italia, centro sud Italia, vediamo dove. Ovviamente vediamo l'amico del canale che ci ospiterà al prezzo basso che ci hanno fatto gli amici del Saloon e ci hanno fatto mangiare bene. Ma sono sicuro che al sud non rimarrò deluso. Bene ragazzi, andiamo avanti con qualche altra immagine. E' il parmigiano, la cosa bella è che mantecato nel riso, probabilmente si tagli, è morbide ed è un arcano di un po' 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 di un po'. Grazie! Grazie a tutti! Ebbene questo è quello che è accaduto lì al ristorante Saloon di Tarantasca, in provincia di Cuneo, in quell'evento di fine ottobre. Vediamo cosa sarà il prossimo, dove sarà il prossimo, intanto spero che sarà anche culturale come è stato questo. Io ringrazio tutti i partecipanti per la loro pazienza, ho risposto a tutte le domande, ci siamo inoltrati fino a serata ampiamente dopo la cena ed è stato veramente molto piacevole. Ragazzi, io vi riassumo un po' il tutto, webinar privato, siamo in due, su videoconferenza e in internet per parlare del vostro impianto. Webinar collettivo, quando lo gestisco e lo istituisco, si fa ogni tanto questo tutti insieme, sempre in videoconferenza, e poi webinar tutti insieme al ristorante, una sorta di festa culturale con tutti voi amici del canale. Grazie ancora, se è il vostro piacere iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo video. Buona serata. Grazie a tutti.